Nel canile di Contrada Carapollo in questi giorni stanno lavorando i volontari. L'istituto zoo profilattico che aveva la struttura in gestione ha infatti deciso di rinunciare. Scelte necessarie e legali spiegano dall'istituto perché già nel 2004 avevamo segnalato al comune le carenze strutturali e igieniche del rifugio per animali. Nel tempo i disagi sono aumentati. Una decisione che molti non condividono a cominciare dall'ex consigliere comunale Camillo De Remigis che ipotizza che la gestione possa essere affidata alla Clean Service, la cooperativa che si occupava dei 309 randaggi per conto dell'istituto. I tecnici del comune, in particolare l'architetto di Timoteo e il commissario, stanno lavorando praticamente da giorni, sono dietro questa vicenda e quindi stanno cercando tutte le soluzioni alternative. La mia preoccupazione che mi preme sottolineare è che l'alternativa non è così semplice. Non si può pensare per esempio di trasferire 310 animali da un posto all'altro magari senza la collaborazione dei collaboratori perché lei pensi che se mettiamo per esempio 5 animali insieme che non sono compatibili, queste si sbranano. Su internet è anche stato inserito un avviso destinato ai canili autorizzati che possano accogliere i cani. Insomma si stanno cercando delle soluzioni, qualunque sia l'alternativa si deve pensare ai piccoli animali. Immaginatevi cosa potrebbe succedere se qualcuno pensa di poter fare un intervento dalla sera alla mattina spostando questi animali, mettendoli magari in maniera confusa, non tenendo conto delle singole caratteristiche di ciascun animale sarebbe veramente un disastro. Guardi, io di questo sono preoccupato.